La situazione al cimitero di Varone non sembra essere cambiata. Dopo la denuncia a mezzo stampa da parte dei cittadini per alcune esumazioni, a loro dire indecorose, i consiglieri della Lega Nord, Luca Grazioli e Pier Giorgio Zambotti, hanno presentato una mozione che sottolinea la necessità di rispettare le norme per le esumazioni e lo stato di incuria e abbandono del cimitero di Varone. La ditta assegnataria delle mansioni al cimitero di Varone, dicono i consiglieri, deve rispettare un capitolato speciale di appalto dove viene ben specificato il taglio dell'erba delle aiuole, il mantenimento della pulizia mediante estirpazione delle erbe e la manutenzione ordinaria agli stabili e manufatti edilizi, lastricati, recinzioni, impianto idrico ed elettrico. Mansioni che secondo i cittadini e i consiglieri comunali di minoranza la ditta non starebbe eseguendo a dovere. La mozione mira a impegnare con un atto formale il sindaco Mosaner e la giunta a rendere decoroso il cimitero di Varone nel rispetto dei defunti, oltre che a dotare il Camposanto di servizi igienici e di avviare un maggior controllo delle pratiche cimiteriali con particolare attenzione alle esumazioni, che anche recentemente sono state frutto di preoccupazioni per una parte della cittadinanza.